La ricetta che vi propongo oggi è una vera americanata e non è vero che gli americani non sanno fare la pasta la sanno fare e come? perché la one pot pasta che si cuoce solo in un recipiente e in dieci minuti è buonissima! Gli ingredienti per la one pot pasta sono la pasta, io direi spaghetti pomodorini, aglio, cipolla, basilico, olio, acqua Mettete gli spaghetti in una pentola aggiungete qualche pomodorino uno scalogno o mezza cipolla intera uno spicchio d'aglio del basilico fresco acqua fino a coprire gli spaghetti e un filo d'olio Mettete la pasta a cuocere sul fuoco coperta per 5 minuti Togliete il coperchio e mescolate fino a fine cottura Eliminate aglio e cipolla Schiacciate i pomodorini Aggiungete un pizzico di sale Condite se volete con il parmigiano grattugiato Sentite, americane o no questa pasta qui spacca Si prepara in dieci minuti tutto in una pentola condimento, pasta, acqua, olio Io non ho aggiunto parmigiano perché mi piace il naturale però potete mettere anche quello Che vedevo lì? Spaghetto mai provocato e mo' me de magno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti